MAURA Mauro, un mese prima di andarsene, ha lasciato delle volontà. Sto parlando delle migliaia di film che ritraggono molti di voi qui presenti. Motore, azione! MAURA Chimone, è lunga la scena, eh? Cioè, scura parecchio. Sto facendo un bezzo. È lunga, senza petta. Sì, senza petta. Che rimane di ognuno di noi quando moriamo? C'è chi fa i figli, chi fa le opere si lascia dietro le opere. Oggi abbiamo fatto qualcosa? No, non abbiamo fatto un cazzo, perché non usciamo a concludere un cazzo. No, quanto eri bello, Giallo. Sono becchiato? No, lei passa per tutti, però tu di una bellezza. Grazie. Anche abbiamo fatto una fine tremenda. No, 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 no. Ma dove sta Mauro qua? Dov'è? Grazie a tutti.